Ciao, sono Domenico Moscatelli, titolare della gelateria Arte Fredda di Trani. Da qualche giorno è partita questa nuova avventura, un locale di nome Mare Luna. Si trova qui nella penisola di Colonna a Trani, un giardino affacciato sul mare. Nella nostra lunga esperienza abbiamo sempre ricercato materie prime di altissima qualità. Infatti qui potrete trovare la nocciola IGP del Piemonte, il pistacchio di Sicilia, la frutta, c'è il limone di Sorrento IGP o una fragola di policoro. Sono tutti ingredienti ricercati e selezionati di altissima qualità, perché noi siamo artigiani del gelato. A breve inoltre sarà pronta la terrazza con una vista eccezionale sul mare dove si potranno degustare degli ottimi vini e anche fare degli aperitivi a base di mare. Abbiamo anche dei panini gourmet con il polpo, il tonno e il salmone. Mare Luna vi aspetta ogni giorno per cominciare la giornata con un'ottima colazione vista mare e perché no concludere la giornata sorseggiando del vino al chiaro di luna.